Uno dell'NG Plus! Comunque, giusto per avvisare. Siamo già partiti? Adesso, proprio Orororoa. Orororoazoro? Ororororoa, roororoazoro. Uno dell'NG Plus! Oddio, siamo partiti per davvero! Allora... Sì, siamo partiti, siamo partiti. Porca troia, sì cazzo, minchia figa se siamo partiti. Allora, questo che cacchio è? E questo? E questo? Sto ventilando. Vado in iperventilazione. Allora, computer, per favore, cerca di collaborare perché ci sono minchia di spacco. Cazzo. Ma tu sei già andato in NG Plus? No, giusto. Buonasera, buonasera, come la va? Buonasera, buonasera. Buonasera, signor Humbly. Tutto bene? Spero di sì. Rispondimi! Allora, buonasera, signor Tanket. Buonasera. Benvenuto tantissimi in questa live. Buonasera, come la va? Buonasera, buonasera. Allora. Devo far partire l'NG Plus con 128.000 129.000 anime. Cosa facciamo? La spendiamo prima di andare in NG Plus? Via, qua. Sì. Ma ti sei messo i martelli doppi di prang? Ma sono andato a fare un po' di PvP con i miei amici, prima di... E mi sono divertito anche parecchio. Già. E io che invece sto facendo una nuova build? Io invece ho iniziato un nuovo personaggio per i cazzi miei e quello me lo giocherò esclusivamente per i cazzi miei. Sì, sì, esattamente. Si sa cosa che ho fatto anch'io. Minchia, mi è venuto un coccolone. Buonasera, signor Claudio. Ma cos'è quel link che mi ha mandato? Ho visto che ha preso un virus su Facebook. Bene, bene. Mi è stato confermato... Oh, adesso sì che leggo. Mi è stato confermato che verrò promosso e sono euforico perché a gennaio avrò otto insufficiente. Avevo otto insufficiente. Madonna, sandeste, ma che bravo guaglione. Ma... Cip, giusto per fartelo sapere, il primo boss lo devi battere con forza da solo, eh? Sì. C'è una cosa che però non mi torna. Cosa? Io avevo ucciso la vecchia Lancella e Andre. Gli avevo uccisi. Eh, Cip, non puoi ucciderli. Gli tornano in giro. Allora. Io credevo che fosse un dettaglio di lore sconcertante. Il fatto che io li avevo uccisi e dopo essere tornato all'altare del virus, il vincolo, non erano tornati in vita. E io pensavo, essendo non morti, ho fatto spegnere la fiamma. Non tornano più in vita. E invece Dark Soul in questo caso mi ha deluso tantissimo. Ma no, te lo dice anche Andre che non può morire perché è un non morto. Ho capito, ma i non morti respawnano al falò. Ma se la fiamma l'ho fatta spegnere. Ah, dici in quel senso. Non so come hanno gestito quella cosa. Probabilmente, col fatto che in quel posto è ancora accesa, la fanno comunque... Peccato. Un vero, un vero, un vero peccato. Buonasera, buonasera, come la va, come la va, lo dico, come la va, insomma. Allora, io direi, ho 128.000 anime. Non so se... A parte che l'anima dei boss ancora ce l'ho. Ce li avrò ancora in NG Plus? Sì, sì, sì. Ok. Gli anime le mantieni. Mantieni tutto quanto tranne gli oggetti chiave. Quindi le chiavi... I tizzoni. I libri, i tizzoni... Allora mi conviene spendere... La bamba e la bandiera di otti. Ma sì, ma quella... Buonasera, signor Teo. Oh, è vero che l'ho ucciso, ma ho incazzato come una iena, niente. Non posso più potenziare le armi. Sì, sì, capo. Siamo tutti che non hai visitato veramente tu questi siti, tranquillo. Ah, boh. Oh. Ah, invece la vecchia non gliene frega un cazzo. Oh, probabilmente mi vende la prova. Ah, per il fatto che l'hai uccisa? Ah. No, effettivamente non gliene frega proprio... Un ciuffolo di nulla. C'è una cosa che devo fare... Ancora prima di andare in NG Plus. Tornare dove c'era la boss fight del primo boss. So che c'è qualcuno che mi aspetta lì. Davvero? Eh sì. Dopo aver ucciso la Chierica, qualcuno si incazza. No, io quella parte non l'ho fatta perché... Diciamo che l'ho fatta finire un po' male, la quest di quella povera disgraziata. Allora, io direi di fare salire anche fede e intelletto, giusto? Perché ho una fiamma della piromanzia alta, quindi... Buonasera, Prudenza, sempre. Purtroppo era un virus tranquillo. Buonasera, buonasera. Mi sto convertendo al soulismo. Ma do quanto soulista. Per il potere di Sugal. Sugal? Che c'entra Sugal? Sì, Sugal. Sugal? Ma Sugal era una nostra follower. Suga malasciuga, non se la ricordo. Io a malapena ricordo i nomi dei miei amici Sistigure. Allora, io direi di comprare... Compriamo robe. Sì, compriamo questo, compriamo questo, compriamo questo, compriamo questo. Compriamoli tutti, vaffanculo, bon. Ho finito le anime, andiamo a spaccare la faccia a quello là. E poi si passa in NG+, ragazzi. Era l'ultimo NPC che mi rimaneva da smassagrare. Dove è il mio spadone di Astora, fede... Sempre Fidelis, spadone di Astora. Sugal, canale. Allora, allora, allora. Sta arrivando se non l'alga a morte. Non posso uscire. Pericolo, pericolo. Non posso uscire. Pronto, Dark Soul, devi collaborare. Collabora. Quella è una cosa che non hanno mai... Mai sistemato. Allora, andiamo a vedere. Ci metti un sacco di tempo a caricare l'aria iniziale. Sì. Anche troppo tempo, in realtà. Dov'è? Mi hanno detto che circa era qua. Fuori dalla stanza del boss. Ok. Carina come cosa. Mi canali chi me ga asciutti canali. Vabbè, io non so leggere. Mi siedo a questo falò perché se casomai mi dovesse uccidere voglio subito ucciderlo di nuovo. Però perché non lo vedo? Perché non c'è? Mi hanno detto che era fuori... Ma non c'è. Non esiste questo NPC? Perché? Non c'è. Non ne ho idea, Cippe. Io, ripeto, io non l'ho mai incontrato. Cioè, l'ho incontrato una volta all'altare del vincolo e basta. Dopodiché non l'ho proprio più visto neanche di striscio. Ah, niente. Sono stato ingannato. Sapevo che lui doveva trovarsi più o meno circa su per giù qua. E doveva essere incazzato come una bestia. Doveva uccidermi. Odio, Aegon. Com'è che si chiama? Sì, Aegon. Aegon di Karim. E invece... Comunque dice Ambly che giocando al Rocket ha sblocato l'antenna a palloncino di cane. Dice che userà solo quella d'ora in avanti. Palloncino di cane? Bene, niente. Si passa all'ange plus, ragazzi. Ahia, il malleolo. Eh, vabbè, me lo sono sbrisciolato. Troppo tale. Però prima di massacro, puttana. Grazie per gli occhi, eh. Grazie. Come muore male, però, questa signorina. Bene, bene. Non, signorina. Prenda. Attenzione, ragazzi. Attenzione. Brucia scheggi di non morto che non ho. Avvia viaggio il numero due. Buonasera, Suga. Come la vai, Suga? Ma la Suga? Ah, eccolo. Ma, Aaron, cos'eri? In combutta con la signorina Suga? Oh, non potrei più tornare al viaggio numero uno. Davvero vuoi iniziare il numero due? Minchia, sì, certo, subito. Com'è? Minchia, Dio, scampo. Per il potere di Suga, mi ha paura, cazzo. Ma va là, come la va? Ma vi siete messi insieme? Che adesso fate le cosacce. Per il potere di Suga. Ma do quanto Suga. Ah, Aaron nel suo portavolo. Ma lei quanto Suga mette nel caffè? Io? Non metto Suga nel caffè. Aspasta, ammazza tutti. Ho già ucciso tutti. Mi rimaneva soltanto... Qualcuno sa se si può cambiare il colore del proprio nome? Il rosso mi sta sicuro. Sì, certo che puoi. Ma io in realtà ambiti verde, non chiedete perché. Ma quella è una cosa personale, ragazzi, è una cosa personale. Se voi vi vedete in un modo, io vi vedo in un... Se voi adesso uscite da questo canale e ci ritornate, io vi vedo con un altro colore. Quanto tempo? Troppo, tantissimo. Troppo tempo. Troppo, troppo, troppo. Tan e anche Tissimo. Già. Allora, siccome adesso devo fare tutta la zona iniziale, le battutore mi mancavano troppo. Come state? Tutto bene, tutto bene. Signor Nico, buonasera. Come la va? Buonasera Nico, buonasera. Non puoi capire quanto la va. Ma la va tantissimo. Ah, voi siete stronzi come... La va bene o la va male, Cip? Ma la va... Lava. Lava, lava, asciuga, lava, asciuga. Lava come lava. Lava asciuga. Asciuga, lavi? Mi sta spacciando per il suo portavolio. Mi sto sbaccando mai? Kappa. No, mai nella vita. Sento rumori bruttissimi. Mamma mia, andiamo solo avanti qua perché c'è un tutorial incredibile da portarvi al termine. Tu ci muori. Tra l'altro, per gli stronzi che non hanno... La carotta e quindi dice il nostro pece se scrive parole strane. Ho capito. E tu, tra l'altro, Nico, non è una cosa strana, eh. Cioè, nel senso, l'hai sempre fatto a scrivere... Lava asciuga i piatti. Allora, per gli stronzi che non hanno giocato a Dark Souls 1, un richiamo molto, molto, molto preciso. Quando tu inizi Dark Souls 3, il tutorial, arrivi qua e trovi un soldato che ha praticamente sfondato con il cranio, il ricettacolo, ed è Oscar colui che in Dark Souls 1 ti dona le sue fiaschette Estus. E qui, invece, quando gli depredi il corpo, trovi... la fiaschetta di Estus Cinereo. Estus Cinereo. Allora, vediamo se hanno cambiato qualcosina anche nel tutorial. E l'Oscar... Mi va a morire. È motto. E l'Oscar, purtroppo... Io non ho mai giocato a Dark Souls. No, Sugal, non sai cosa che... Madonna, Sugal, non puoi venire a dirmi delle cose del genere perché sono brutte nella vita di una persona. Tu eri là dietro che mi... Ma vedi allora, Nico, che ti funziona l'hack. È vero. Ma probabilmente ce l'ha come messaggio preimpostato. Lordi a palate. Lordi a palate. Ma un'altra campana da chi eri? Devo supporre che il messaggio manderà a farti fotte le tank e lì ce l'avesse già memorizzato. Sì. Lord a patate, non a palate. Devo fremere un casino, tipo me lo immagino col martello scalpello che... PUM! PUM! Scrivi sta cazzo di H. Vediamo un po' qua come funge la lucertolozza. Oh, oggetto nuovo? Annello della pietra variegata più uno. Ma grazie Dark Souls. Guarda che muoio malissimo. Mi sono fissata con Code, mi sono innamorata di Destiny. Sto aspettando il DLC. Il DLC. Ma di quale? Di Code o di Destiny? Buonasera di Astralto, buonasera. Buonasera ragazzi, come la va? Io proprio di nuovo mando e reclamano un tono di voce più basso. Oh, quanto danno prendi. Eh, io anche però ne prendo tanto. Eh, non parlare di Code con Chip e che te picchia. Ma no, ognuno i suoi gusti, signore e signori. Babau! C'è però Code fa cagare, è mitico. Ah, a me ragazzi il Code non piace. Mi fa salire un odio che non potete capire ma quanto odio. Odio, odio. Ma tra l'altro, Chip, lei non ha visto che da un po' di tempo a questa parte stiamo mettendo i DLC di Battlefield 4 praticamente, anzi, senza praticamente gratis. Ma io ce li ho già i DLC di Battlefield 4. Tutti! Ma perché lei ha preso il premium. No, io ho preso il DLC senza essere premium. Maddo. Perché sono un cretino. Eh, sono un cretino, mi dispiace. Ti convengo di prendere il premium? Sì, perché io quando ho comprato i DLC credevo di essere premium e invece no. Eh, te l'ho detto, sono un cretino, ma non viagginarmi. E poi scusa, eh, li ho solo comprati una volta per PS3 e una volta per PS4. Ah, bene. No, non è vero, per PS4 li ho soltanto scaricati. Uh, quanto telecamera mi ha fatto vomitare male. Allora, tra l'altro sto seguendo, adesso che ho finito Dark Soul, finalmente tutta la cazzo di Randi Yotobi. Eh, oddio, quanto mi fa piaciare addosso. L'ultimo video non l'ho visto, cioè quello di oggi. Sì, l'ho visto stasera. C'è gente in più? No, ce n'è solo uno. Ok. Ma io voglio vedere come compare. Ah, così, un ninja. Sì, in effetti, anch'io, ci sono rimasto molto male anch'io del fatto che compare così, si ricorda. Eh, sì, sì, ma guardi, io la prima volta che l'ho visto, pensi che mi fosse sceso da proprio solo il ponte, fosse nascosto e non l'avevo visto. Eh, ma infatti io poi, la prima volta che sono morto, sono poi tornato lì, guardandomi alle spalle per capire che cazzo fosse successo. Oh no, quello c'ho la balestra. Vieni qua. Il mio browser impazzisce, ha tre pagine a caso da solo. Gli AVG, tra l'altro. Ma porca, ho sbagliato. Madonna, non ti faccio un cazzo con la Pairomando. Oh, vai giù. Vai giù. Vai giù. Eh, vaffanculo, ha dovuto colpermi lo stesso. È vendetta, vera. Non è morto. Certo, Cipè, se tira la palla di fuoco con la sinistra e la sinistra è palesemente piccata al muro. Eh, lo so, mi spiace. Non gesto una ragazza che ha andato pure per paura che la mangiassi. Incredibile, solo perché sei cinciona e come l'hai presa. Ammorsi. Era una battuta di Nico, Cipè. Ci sono rimasto male. Non finirò in galera, vendetta vera. Allora, vediamo se hanno aggiunto qualche oggettucolo qua. Mi ricorda l'Oiopi di... Cos'era? Left for Dead? Left for Dead, sì. Col tizio qualunque. Esatto. Asoto, maia, iaia, iaia, boom! Da che Nico ha rincominciato con le battute. Amore, il nostro figlio mi ha trovato la toia. Che figlio di puttana. Asgaumbaumbaumba. Ok, credo sia morto. Frammento di titanità. Ma do quanto frammento, l'ho frammentato proprio. Allora, questo figlio di puttana soffre il fuoco. Allora, intanto le pietruzze le togliamo. E grazie, FromSoft, per avermi mantenuto le pietruzze. No, no, Nico, no, devi... Continua. È bello avere dei... Ma non fai più gupi in questa run. In questa run... Questa è la... La run che farò con gli iscritti. Capito? Io adesso appena arrivo nella prima zona, superato il tutorial, inizio a evocarvi, ragazzi. Evocarvi. Capita? E mettiamo anche la password. Perché mi son baffato che devo ancora andare a togliergli la spada? Però muovi T-Cip, io ti sto aspettando con impazienza. Devo farti un culo tanto. Ma... Ma già che posso colpirlo? Quanto danno ti sei già preso? Dai, fai le robe tue. Esbaum! Eh, tuo fratello era più forte. No, no, no! Il fuoco lo teme molto di più nella seconda parte, eh? Della... Della boss fight. Ahia, mi ha fatto male. Scusi cosa non l'ho sentita perché mi stava colpendo forte. Eh, vabbè, allora... Il fuoco lo teme molto di più nella seconda parte. Sì, aspetti che però io sto... Sto temendo io tanto, tanto. Aspetti che... Ok. Adesso non temo più. E lui invece va giù con 700 di botta proprio nella spiena. Spada a spirale. In Keran 6 siamo nell'NG+. Appena cominciato. Buonasera signor assassino. Prova a invadere tante. Buonasera... Assassino, buonasera. Amalgam che strema. Sì, sì. Bastardo. Ma lo maledico io se lo trovo. Buonasera, tante e benvenuto signor Grello Cliller. Allora, accendiamo al Falox. Il Falox... Gestalt lo sa che ogni tanto ha fatto qualche... partita in cop con me quando fievo la run su... D'Arto 2 su PS4. Sto aprendo la parola. Assunto male. Buonasera. Lo chiede, lo domanda. Allora, oggettucolo. Spada spezzata. Eh beh, sì, mi serve moltissimo. Ho visto un oggetto anche là sotto. E qua è pieno di stronzi. Eh, infatti. Sentivo la puzza di merda. Eccola qua. Credo di averti tolto lo scudo con un R2. Ok, perfetto. Cerchiamo di non morire malissimo. Che cazzo... Che cazzo... Che cazzo... Che cazzo... Che cazzo... Ha presente quando lei è andato nell'arena e non ha trovato nessuno? Eh. Ecco. Lei ha trovato... Mi ha appena appreso un dialogo. Mi ha appreso... Mi ha appreso un dialogo. Buonasera, signora Andrea Drake. Era lui. E che dice? Porco... Eh sì. Ti avevo avvertito. E ti sta spaccando la faccia, vero? No. Sto utilizzando la Dark Sword. Ho tolto praticamente tutta la vita. Ah, ok. Però ti sei cagato male. Lo sentito. Era dietro la porta. Era notte e non si vedeva. Ah... Ma come notte? Era per dire... Ah. Ho capito. Che da... No, no. Ti giuro... Ognuno... No, aspetta, aspetta, aspetta. Come? Cosa, cosa, cosa? Dica, dica. Ma l'ha uccisa lui. Eh? Ma figlio di put... No, vabbè, l'ha uccisa lui. Cipe comunque. Ma come? Per che? Ti giuro... Non lo so, Cipe, ma c'è... Di... Matteo di Borno, scudogiamente... Se tu... Pronto? Tange, non... Aspetta, 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 un attimo. Beh... Ma parla, poi non dice. Allora, buonasera. Mi ha affrontato. Allora, mi ha affrontato. Io sono arrivato dal falò. Eh? Andando verso l'altare. Eh? Ho sentito un dialogo. Dopodiché ho attraversato la porta. Non lo vedevo. Mi ha apparso da dietro. E praticamente nella porta c'è un'altra signoria. Che non so se è la stessa di prima oppure no. Però era sdraiata per terra. Mi ha fatto poi un dialo... Un hint di parlare. E allora era Dusk di darcel'uno. No, è lei. È proprio lei. Lei è... Adesso questo qua lo devo massacrare, però, perché... Venghi giù, venghi. È scomparsa. Non mi faccia spercare gli R2. Venghi giù. Faccia robe, faccia. Vabbè. Non attacca. Wow. Guarda che consumi tutto il mana così, eh. Io te lo dico subito. Merda! Ma quanto danno mi hai fatto... No, aspetta, questo... No, cos'è perché? Mi dispiace, non volevo. Stavo cercando... Eh, vabbè. Eh, ma loro sono... No, sono un cretino. Senti. Ma è... Mi è ritornata nell'antare, Cipe. Praticamente è lui che la porta via. Perché? Non ne ho idea. Questa l'ha presa tutta. L'hai sentita la mia spada grossa? Ugi Katana. Eh, vabbè. Madò. Attenzione, new follow! Lei può urlare, signor Tankhead, o comunque cantare in... Ci sono, ci sono, ci sono. Madonna santa, allora, per il potere di Gresco! Grazie mille, signor Grillo Killer. Allora, Tankhead vuole essere invaso. E stai in NG Plus? Bravo! No, io non ci posso credere. Ti ho lasciato quando giocavi per la prima volta su DS3. Micchia. Eh sì, abbiamo finito... Tra l'altro non ci ho messo neanche poi più di tanto, perché 21 puntate da un'ora. Poi le ultime sono state circa di due ore e mezza, tre. Le ultime tre puntate. Ah, perché l'hai... Corrotta con tomi oscuri? Ah, è giustamente, sì. Perché, sì, 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 sì. Me l'avevano detto questo. Ma io non lo sapevo, io l'ho scoperto dopo. Se gli davi quel tomo là, lei... E scompariva, che ne potevo sapere. Ma no, lei non è scomparsa. Io gli ho dato i tomi... Poi l'ha rapita il tipo però. Eh, vabbè. Allora, qua c'è l'osso del ritorno. Ormai conosco anche i drop a memoria. Maddo, quanto sono super power! Qua c'è il babau. Però... Ah, ah, una braccia! Madonna, c'era una braccia! Fu solo daglio fatto, incredibile. I cani volano via quando li tocchi. Sono dei palloncini. Ah, sì! Che cosa... Madonna santa, quanto mi ha grattugiato. Era un saluto. Un momento, uno per volta. Allora, cosa ne pensi della boss fight finale? Cosa ne pensi della boss fight finale? Se vai sul mio canale, YouTube, e guardi come ho reagito quando l'ho portato alla seconda fase, mio Dio, complimenti, complimenti. Mi sono iscritto in palestra! E quanto hai perso 300 euro? Questa è bella, questa è bella. Oh, buonasera intanto, signor Juscia. Allora, compri e non impari... Se anche a Corone basta che non impari i miracoli oscuri e non cambia niente. Ah, vabbè, ma io li avevo... Io li ho imparati. Allora, ma il signor Vinnik... Il signor Vinnik non riusciamo più a creare... A stare in parti assieme. Non perché ci odiamo tantissimo. È perché lui ha una connessione di merda. E il NAT non ci permette di comunicare. Tipo quando giochiamo a Rocket League, poca, 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 dobbiamo comunicare tramite Skype. E poi comunque non riesce a stare online. Cioè... Qua ce ne sbattiamo le palle di tutto e tutti... Minchia, ma... 40.000 anime così di botto. Va bene. Ma sì. Sì, 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 sì. Avanza di livello... Sì, posso fare un livello uno solo? Mi basterebbe anche farne uno solo. No, non posso fare un livello. Allora inculati. Farewell, Ashenone. Assassin Live is now hosting you. Thank you, thank you, thank you very much. Allora, ok, guarderò. No, comunque ci ho reagito veramente... Stavo per piangere. Poi però mi sono ricordato che c'era la mia ragazza di fianco. C'erano tutte le persone in live. Fossi stato da solo avrei reagito in un altro modo. Allora... A che livello sei? Mo' vediamo, credo, intorno al 90 e qualcosa. Mi sono chiesto... Perché non lo sentivo parlare... Eh, sì, sì. Purtroppo c'è questo problema qua. Lui vorrebbe... Sono a livello 94. Allora, pronti ragazzi? Io sto andando nella nuova zona. Chi è che vuole giocare con noi? Ma non c'ero io, Cip, eh? Ho già notato? Certo. Vuole venire solo lei? Possiamo farla in quattro. Adesso vogliamo venire anche altri. Ma no, lei sa che se la facciamo in quattro ci invaderanno ogni cinque secondi. Sì, sì, sì. Contento lei, Cip, contento lei. Comunque, password sempre stessa? Mettiamo Cip, tutto scritto minuscolo, ragazzi. Ora batti il record. Ma come quattro ore. Ah, che poi ci stavo pensando. Se ci invadono per forza deve essere qualcuno che ha su, quindi qualche iscritto. Mamma mia, quanto mi gratta nell'orecchio però questa sera. Scusa le tante domande. Ma sono in nostro canale. Ogni quanto fai le live... Intanto, non ti scusare se mi fai le domande perché giustamente sei nuovo nel canale e non lo sai. E apprezzo il fatto che tu le faccia queste domande. Faccio le live ogni giorno, tranne quando non sto bene. Tipo ieri sera dovevo farla ma non sono stato bene, ragazzi. Mi dispiace. Basta che usi le dita. Allora, dalle 22 alle 23. E questa volta, ragazzi, perché siamo in NG+, quindi il gioco ormai lo conosciamo, sarà veramente dalle 22 alle 23. Quindi, al massimo 23-30. Perché poi io devo mantenere il mio allenamento costante su Rocket League, quindi non posso assolutamente smettere di giocare a Rocket League per Dark Souls. O porteremo anche le live di Rocket League. Questo sì. Perciò state pronti se siete dei giocatori di Rocket League, non perdete l'occasione per venire a sfuggiare la vostra bravura su questo canale. Basta dire cazzate. Adesso vi evoca, ragazzi. Mettete i simbolini. Metteteli qui. Qui dove, Cippe? Che io non lo stavo guardando. Alle mura. Sì, sì, messo, messo. Allora, ragazzi, ve lo ricordo, la password è Cippe. Ma che sapevo tu, certo. La sto mettendo now. Cippe. Tutto scritto, minuscolo. Non l'avevi ancora fatto. Ma no, ma che cazzo stanno che sto parlando, sto giocando, sto facendo robe. Noir? Chi è Noir? Sei tu Noir? Noir? No, non sono io Noir. Ma, sì che sei tu. Ma io, ma cosa stai dicendo? Non posso essere io. Chi è Noir di voi? Console o PC? Siamo da console PS4. Tunked. Ma dai, ma vieni con la mia stessa armatura. Ma sei scelto? Sicuramente quella è la mia armatura da solo uno. Per quanto riguarda il mio personaggio Tunked. Poi gli altri sono differenti. Il signor Noir è Gestad. Perché è una banchia differente. È Gestad. Ah. Ehi. Ehi. Ma. Per il potere di Grayskull. Ma mi hai spaventato. Tutto spesso così pensavo fossi maschio invece, guarda. Ecco il signor Tunked. Ammazzalo. Ma no. Vieni qua Gestad. Vieni. Fatti abbracciare. Sto di me la porco. Ma che bella armatura. Ma che armatura è? Aspetta. Finalmente. Sera. Potrei rimettermi davanti al PG. Al PG. Seguendo al PG. Seguendo il vostro live. Anche io Rocket League. Gioco con i followers. Giusto? Minchia se gioco con i followers. Peccato io all'Xbox. Signor Grillo. Lei si è procurato Rocket League per l'Xbox? Perché c'è il multiplayer. Come si dice? C'è il crossplay adesso. Giusto? C'è il crossplay con quelli del PC. Oh. Non ti preoccupare amore mio. Sei fatto l'euro. Ma no. Scusa. Quello con l'Xbox non l'hanno ancora attivato? No. Allora ragazzi. Qua a mo' non mi ricordo. La strada più veloce. Vai Tunked. Fammi. 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 Fammi strada. Vai 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 andiamo subito a spaccare l'anno al boss. Vai vai vai. Che cazzo stai. Prondo. Però non ce l'ho. Prondo. Lo shortcut aperto. Signor Tunked. Non ce l'ho lo shortcut aperto. Signor Tunked. Tutto cippe ma allora cippe. Sì. Prondo. Allora andiamo dall'altra. Bravo. Cazzo. Che cazzo. L'armatura. Sto provvedendo a comprarlo. Sì. Anche perché non costa un culo. E in teoria. Da quello che so. Sull'Xbox. Se lo compri. Ora orora. Ti danno anche tutti i DLC insieme. O sto dicendo una di... Praticamente. Deve uscire una colletto. L'inversione fisica. Per il CD. Il 28 giugno. Scusate. Sì. Il 28 giugno. Allora ho detto caccate. Mi piace. Buonasera buonasera signor Sodir. Come la va? Come la va? Come la va? Allora. Oggetti. C'hanno invaso. E deve essere per forza qualcuno con... Ed è qua vicino. Con la password. Ragazzi voi siete scesi. Tornate su. Tornate su. Venite. Sento combattere. State combattendo? Sì sta combattendo gesto. Porca troia rido. E qua sotto cippe. Asata o mai è? Diciamolo. Ma facciamolo uccidere dal drago. Aspetta che mo lo spacco di botte. Ma dov'è? Eccolo là. Cosa fai? Vuoi scappare? Ma sei scena? Ma sei cretino? Vieni subito qua. Aia. Occhio che arriva il drago. Guarda come scappa. No. Chi è il bastardo che ci sta invadendo? Andiamo su dal Mimic. Andiamo su dal Mimic. Non c'è il Mimic. Aia. Muoro. Guarda come ci muore. Apre la porta. Come? Come? Come se è un chip? Come è vivo chip? Giusto per sapere come. E ho fatto robe. Quelle impossibili. Vengo ad aprirvi la porta da questa parte ragazzi. Ma sì ma faccia pure. Allora. Tutto bene tutto bene. Ci sono già i DLC compresi. Ho comprato il mio primo Dark Souls quindi puoi immaginarlo. Quale Dark Souls l'ha comprato? Ma ha comprato il terzo direttamente? Ma no. Ma quello là sta. Arrivo. Preso. No. Ma cosa vuoi? Ma lasciami in pace. Aia. Ma dai. Ma che cazzo è? Una festa? Un party privato. Guarda che cerchiamo. Guarda che c'è gesto perché stavo utilizzando lo stocco. Ma qual è il problema di cristallo? No. Spezza grazie. Cosa? Andiamo giù. È inutile seguirlo adesso. È inutile seguirlo. Venite giù da me. Andiamo a uccidere il Mimic. Ma giù da me o giù da te? Ma giù da me. Giù da me. State sprecando fiaschette. No io non ho ancora sprecato fiaschette. Sono al massimo ancora. Ah aiuto uccidetelo. Mi fa schifo. Oh gli odio che schifo. Mi ha tirato un caccio che neanche è grosso ai mondiali. Ok occhio che non ci faccia l'attacco in salto quello là. Chi è il maledetto che ci sta invadendo di voi? Ah hai preso proprio il primo. Ottima scelta. Ottima scelta. Partire dal primo se è il tuo primo. Ma il fantasma Noir è morto. Gestalt. No. No Noir era il nome del personaggio. Ma è morto perché l'ha inseguito. Ma l'ha mortuto. L'ha mortuto? Ma con quanta arroganza. Dov'è quel maledetto invasore? Sento che il tanker sta combattendo. Come? Vieni. Con i deficienti di... Di sti. Vieni a questo fallo qui. Vieni. Arrivo chip. Arrivo. Ho letto che in un prossimo aggiornamento di DS3 che non so quando sarà metteranno il crossplay tra Xbox PC e PS4. Veramente? Non so se si è un fico o no. No, su DS3 no. No, è... Sarebbe un po'... Ha una voce di corridoio. Beh, oddio. Dire che è sbilanciato su Dark Souls 3 è come dire che è sbilanciato per Rocket League. Cioè, alla fine è sbilanciato per forza. Soprattutto perché giocano a 60 FPS sul PC. Minimo. Minimo. C'è un simbolo di vocazione? È il signor Noir. Lo richiamiamo il signor Noir. Ma chi è il bastardo che ci sta invadendo? Voglio sapere chi è il bastardo di voi che ci sta invadendo. Non succede... A parte il fatto che ci stanno invadendo, quindi... Cioè... Ma aveva il simbolo della... Oh mio Dio. Della password? Mi aspettavo più difficile. No, c'è per punto che per forza se uno ti invade ha la tua stessa password. Non ti possono invadere persone che non hanno la stessa password. Ma... Eh... Perché? Cioè, non... Non compriendo. Perché così? Basta, Cip. Non puoi invadere uno che non ha lato... Ma qua mi stanno invadendo, capito? Non è che... L'ho richiamato io. Mi stanno proprio invadendo. Allora, non possiamo andare giù perché... Sì, sì, ma... Infatti sicuramente è. Eccolo qua, lo sapevo. Ah, se uso un globo invadendo a caso. Non andare, non andare, non andare, non andare, non andare. Ok. Me lo aspettavo più difficile, probabilmente il Drago Vagina mi supererà, ma non so... No, no, il Drago Vagina non è così forte. Ma dovresti invadere con la... Sera tramite pietra rossa. Ah, ecco, infatti. Ma se uso il globo invadendo a caso. Allora... Qua bisogna fare una roba a farsi. Ah, yes, ha fatto tutto. Ma no, ci penso, sto attaccando te. È morto, è morto. Ah, sì? Eh, perché? Mi ha dato una catena vertebrale. Cioè, posso farmare catene vertebrali così? A me solo quelle mi mancano, è normale. Credo... Io credo di avergli dato due spadate forti mentre cercava di colpirmi. Gemma Grezza. Cip, io non ti vedo però. Sono qua, sono qua. Ah, ecco ti. Eh, non ti vedo. Ho colpito e poi sono scappato tantissimo. Mi spiace. Qua c'è una lucertola. Maledetta frai. La mia arma... Io è morta. La mia arma definitiva. La mannaia, mannaia. Poziata al più 10, Cip. La mia prima arma ha portato al più 10. Quindi non è della chat. Già. Allora... Ecco, poi mi pensavo... Pensavo cose sbagliate. Ma do signor Tanked ci ha confuso le meningi. Ah, aspetta, me ne avevano parlato di quell'oggetto in New Game Plus. Devo saltare da qui? Aspettaci perché ci trovo più mai io. Ok. E muore. Sì, vai tranquillo. Cazzo! Ok, ce l'ho fatta. Anello della carne più uno. Madò. Ah. E qua c'è da sventare un trappolozzo. Io comunque in tutto questo vorrei far notare che non ho ancora utilizzato uno schifo di fiala, eh. Madò, sei proprio bravo. Ma scusa, ma questi sono già morti? Sì. Com'è successo? No, più oltre sei cos'è. Ho rigenerazione. Ah. Eh, sarà arrivato qua. Lo ucciderò sicuro. Se solo avessi Dark Souls. Drago Vagina è praticamente un drago che si è salvato dallo sterminio di Gwyn e si è rifugiato nelle profondità ed è stato corrotto dalla fame e è diventato uno schifezza. Ma è ancora vivo questo? Praticamente gli è cresciuta una bocca sulla panza ed è piena di denti e dalla posizione che assume per farti un morso, diciamo, ricorda tanto un organo riproduttivo comunile con i denti. Tutto a merito di Yotobi, ovviamente. Merito di Yotobi che assomiglia a una vagina? Cosa vuol dire? No, a merito di Yotobi il termine Drago Vagina. Ah. Ok. Qua abbiamo un oggetto, quello che è un fiore verde che non... Una volta che l'ho sentito, l'ho sentito da loro. Ma non buttatemi di lì! No, però se tu scendi di qua... Cip, se scendi di qua c'è un baule. Cosa? Con una spada dentro. Cosa? Sì, Cip. Ma... Ma... Ma mi sta prendendo poi il sedere? No. Guarda che si spazio per quella a cui piace... Ma come? Cazzo, ma la spada di Astora! Ma è quella di Solair! No, Cip, ancora la è la spada del sole. Ah. E l'hai druffata tra l'altro in Dominic. È diventata una discoteca? Cosa succede? Ti ha potenziato, ci ha baffato Cip. Madonna, adesso mi sento pronto per dilatare gli culi! Spamma TR1 come se non ci fossero domani! Non era quello che abbiamo appena fatto? Sì. Scheggia di Estus. Quanto è il massimo di Estus che si può raggiungere? Io ho raggiunto il più... Il 15 di numero. Mi ha dato l'obiettivo potenziato al massimo. Quindi, suppongo siano 15. Io ne ho 14 attualmente. Quindi mi mancava una Estus! Mi sto giocando con la spada bastarda più 5. Mi consigliate... Ah, ma che cazzo succede? Mi consigliate di cambiare... Ma, oddio, io in Dark Souls 1 che cos'è che usavo? La Claymore? La Zweihanda? Zuse Strassen ha due mani e si va, eh? Cip, è andato a prendere il... Lo scudo dell'Aquila accerta. Ah, ok, perfetto. Si scende dalla balconata? Ah, perfetto. Scendiamo ad HV? Da HV, sì. Da HV. Scendiamo da HV. Vadi, vadi. Non indugi. Portatemelo qua che gli faccio un super cazzo di... Attacco e salto dalla vita! Madonna! Ti... Ti deleto! La vita, ecco. Più 15... Ah, 15 a più 10. Va bene, dai, però voglio una spada che può essere castata un pochettino. La Heshtok. Tra l'altro, visto che hanno fatto anche lo spadone oscuro, e l'hanno fatto veramente figo! Mamma mia! Quanto è bello quello spadone oscuro? Sì, l'opposto, l'esatto opposto di spada della luce, lì come cazzo si chiama? Spadone dell'anima. Mamma mia, quanto può essere figa quella super spada! Andiamo a sbloccare lo Shurtkut? Lo Shurtkut? Lo Shurtkut? C'è anche roba da prendere qua? Sì, sì, ma sono robe che non interessano mai nella vita. Oh, c'ho l'imboscata! Madonna, aiuto! No, 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 no! Colpisco random! Non so se l'hai shurtato tu o l'ho colpito io, ma vabbè, tanto. E voi, proti guerrieri, aspettatemi qui! Torno subito! C'è il Nico che sta cercando di invaderti, ma c'è soltanto, c'entro soltanto in tornei. Tornei, sono deathmatch, non sono tornei. La build che si basa sulla fortuna. La build che si basa sulla fortuna è OP. Eh sì, perché c'è un'arma che è quella di Harry, che scala su fortuna. Ah sì? E in più recupera, non mi ricordo se è tipo, recupera HP forse. Ora non c'è la discussione, però mi pare se li scambiamo. Ocho che arriva giù mob! Non arriva più! L'ho vista specicata a terra, città. È stato bellissimo! Stai cercando di venire? Io l'ho sempre chiamato i tornei. Hai sempre sbagliato, adesso devi vergognarti, abbassare la testa, fare una faccia triste e dire do! Wow, c'è un oggetto qua che non l'avevo mai visto. Ah, un fiore verde, meno male che non l'avevo mai visto. Salve! Vediamo se c'è l'eco qui dentro. No, FromSoftware hai toppato. Veramente l'eco, io l'ho sentito, città, poi... Tu senti quello che vuoi sentire, Tanked? Come darti torno, Chip. Mi dispiace, analisi il sacrificio, ho fatto un sacrificio enorme a venire fino a qua. Andiamo, andiamo, verso nuove avventure. Sperando di non morire. Ma sei caduto sulla braccia, sei caduto. Sul falò. Eh, oh, sono una braccia, Chip, cosa vuoi che ti dica? Che build avete? Una build di merda. Nel senso, mi sono messo la prima armatura che mi piaceva, ovviamente quella di Artorias. Il cavaliere del lupo. Eh, la mia, il mio fedele spadone di Astora. E quello doveva essere un backstab, non so come mai non l'ho preso. Aia, mi prende la scudata in the face. Aiuto! E poi ho lo scudo del drago, questo qua. Che protegge dal fuoco. Ma! Ma! C'è un cavaliere che sta utilizzando lo scudo per colpirmi. Sì, ed è molto forte. Fai tre salti in alto, due salti in basso. Buttati in una piscina piena di squali. E poi gli lanci delle farfalle. Ha più pulito di squali. Eh? A proposito di squali, ma lei non sa che mercoledì scorso c'era Sharknado 2 alla televisione? Meno male che non l'ho visto. Madonna quanto mi baffo adesso per rompere. E questo mi prende, devono dare Sharknado 3. Oh merda, mi ha visto. Oh, mi ha visto, mi ha visto, mi ha visto, mi ha visto, mi ha visto. Aiuto! E poi eravamo in 3 attaccato te. Madonna quanto gli ero un po' il culo. Massacrume, massacrume. L'abbiamo chiuso in un triangolo amoroso. Ma do quanto amoroso quel triangolo. Perché si ganca così bruttamente? Perché stai andando a uccidere la vecchia? Ma non sto andando a uccidere la vecchia, sto andando a dirle che ormai è tutto finito. Puoi ucciderla e andare subito a battere la cosa. La danza panza. Eh, la danza panza. Però non è così. Mi è cresciato Twitch, non so se mi hai risposto che Bill Dye è una Bill di merda. Esatto. Esatto. Mi deve ancora dire questo? No, anche in Goldobobbo. Anche in Goldobobbo. La cosa delle sentinelle è blu. Siamo stati invasi. Ma? La sentinelle è blu. Ma devo metterlo? No, no. La valentine. Non puoi metterlo, cip, è spiocando online. Ah, è vero. Dov'è sto Fidipù? Vai, andiamo ad affrontare Volt della Valle Boreale. Va bene, andiamo ad affrontare Volt. Non c'ho voglia di farmi vedere mentre ganco la pipo. Ma? Ma no, niente. Credevo e invece. Non fatevi ammazzare, eh, sto entrando in Duboss. In Duboss. In Duboss, figate. Vado quanto lontano però, devo correre. Basta merda di sentinelle, fate cagare, scorretti di merda. Eh, vabbè. E lo fate totalmente random. Ah, giustamente. Eh, ma è così che si fanno le build migliori. Oh, c'è una luna che sta dormendo. Che questa cosa non è vera mai, non è vero. Che si fanno le build migliori a casa. Io sul passo 1 la pomaglia. Il build che ho fatto era una cioffecca impressionante. Venite, amici! Che c'è un ciccione che gradisce essere martoriato di botte in da... Aia! Schiusa! In da face. Mi ha colpito! Mi ha colpito! Mi ha ricolpito! Mi ha colpito ancora! E... Sono incastrato nella panza di questo... Di costui. Ma da quanto posso far cagare questo... E si comincia a utilizzare le questioni già. Ma... Quanto poco danno gli faccio? Modunno! Perché non so utilizzare la Dazword. Ah, ok. No! Stai fermo un attimo. Stai fermo... Ma allora, pronto! Non so cosa fa. Nei picchi, Cippe, picchi. Ma... Sono congelato. Ma di finti con calcio. Quanto bordello nelle mie orecchie, pereo! Anima di Vort. Mi passo, Cippe. Ma così poche anime? Ma che schifo. Olè! Dunque, sono le 22.52. Cosa facciamo? Procediamo con ordine? Oppure andiamo subito a fare la danzatrice? Come vuole Cippe. Che palle! Sempre come voglio io! Ma è come volete voi! E Cippe, la live è tua! Io gradirei... Ma andiamo con ordine, va! Io ti devo invadere! Mettiti il maione della nonna così ti scongeli, giustamente. Poche pugnette. Allora, facciamo una cosa. Ho un'idea. Cosa stiamo facendo Cippe? Subito danzatrice. Ma ragazzi, vabbè... Siete proprio sicuri? Cioè... Ma no, ma dai! Eh, ma io... Allora, aspetta. Ecco l'altra danzatrice, porca troia! Ma ragazzi, è brutto vedere tre giocatori che gancano la danzatrice, cioè... Facciamo una cosa, una cosa molto più carina. Facciamo un po' di PvP? Eh? Ma sì, ma sì, ma dai! Fammo un po' di PvP... Andate a mettere il segno al primo falò delle mura. Con la password Cippe. Tutto minuscolo. Danzatrice, eh? Danzatrice è un boss veramente figo. È un boss veramente, veramente figo, ragazzi. Una danzatrice. Sì, decisamente. Sera, boys! S'abbacco e tanque, ma dai! Buonasera, buonasera! Ma basta! Ma basta! Che idea di merda che ho avuto di... Di... Chiedere cosa cazzo volevamo fare se la danzatrice dovrebbe andare avanti. Andiamo a fare più pi, ragazzi! Più, 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 più! Più, più! Più, più! Più, più! Mettete il simbolino, mettete. Dream, tua madre, Non mi avete chiamato per la copp, tu sei arrivato a fine live e ti dovevamo chiamare per la copp, bravo, 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 eh, bravo, complimerda, eh. Se voi ti chiamo dalla coppa per la copp, ormai... Minchia tank, adesso però ti devo bannare subito dalle mie orecchie. Ma perché? Perché la copp sei tu. E poi sono io quello che deve essere bannato. Mi spiace, mi spiace, mi è scappata, non sono riuscito a... correva più veloce di me. La copp. Quanto sottofondo melodico. Vedo segni ovunque. E questo è il simbolo di tanked. Ecco... Ma... solo uno per volta, posso levacarne? Perché mai? Devo usare le dita vizzite? No, mi sa che deve aspettare, ciò, iet. Ma quindi adesso dovrò combattere contro di lei. Cioè, io avevo due simboli sotto le piotte, ho toccato il suo e... gli altri sono spariti. Gli altri, l'altro. Se uso le dita... credo che... mi invadono a manetta. Mi ha fatto un po' sfamare dalla parte del mondo. Ma può ricadico la trotta? Anima dei signori, un'anima corrotta. Dai tempi di Gwyn, il primo signore dei tizioni, molti nobili signori hanno vincolato la prima fiamma. E se le loro stesse anime si sono manifestate in suo difetto. E le loro stesse anime si sono manifestate in suo difetto. Sì, praticamente era quello che desideravo io della boss fight finale di un Dark Souls. che praticamente le vecchie persone che hanno vincolato il falò si sono unite tutte. Non ho le dita, fammi un backstab e ti denuncio. Ti denuncio, eh. Io ho anche aspettato Cip, quindi non mi può dire nulla. Il tizione grande cosa fa? Il tizione grande... Oddio. Potenziali... Ti permette di potenziare le armi fino al... Al più 15. Più 10. No, al più 10. Quello là è quello gigante. Ah, di dar solo uno. Sì. Io stacco adesso ciao a tutti e alla prossima. Quindi domani no, no, domani non so. Però forse è domenica. Ciao Sugal, grazie mille per la sera passata. Ciao Sugal. Baci, baci, baci. Fatti sotto. Ma vuoi si vedi la cippe? E non ce n'ho! E non ce n'ho! Ma non li ha comprato la tizia? Ma no, no, no. Ma le fa schifo. Mi fanno schifo le dita. Ma no, ma cosa fa? Lei si baffa come i nabbi? C'è già una... Porca troia! Porca di quella troia, Tanked! Porca di quella troia! Porca di quella troia! Eh, ti piace, eh? Ma quanto lontano è andato il mio personaggio? Pronto a recuperare la stamina? Pronto, pronto. No! A parte che l'ho colpita all'ultimo. Si chiama equilibrio, Tanked, degli R2 e degli spadoni. Sì, beh, non so se lo sai, ma in Darsol 3 l'equilibrio non esiste. Cioè, esiste ma non è attivato. Ah, ah! E allora come mai non mi hai interrotto l'attacco? Ma che ne so, Chip, ma che ne so. Ma vuoi dire che lo sappia. Come si mette il segno? Mai usato in 3 capi, manco per la coppa. Allora, devi avere la pietra, devi essere umano. La pietra rossa, devi usare la pietra rossa. E qua abbiamo il signor Noir. Ma usa lui. Ma sei una schiappa, Tanked. Sì, bravo. Io l'unico PVP che ho fatto era in... Hai tempo di dar solo uno? Hai però... E mi dico che ero bravo. Qua ha proprio uno schifo di nulla. Tra l'altro, gli anelli... Ok, sono quei. E sai perché ti faccio così tanto danno in affondo? Perché ho l'anello del leone. No, l'anello del calabrone al limite del leone. L'anello del leone. Ah no, per l'attacco critico. Sì, hai ragione, hai ragione. Mi stavo confondendo con i due anelli. Dovrei metterlo anche, quello dell'anello dell'attacco critico, visto che mi piacciono i perri. Perdonami. Cip, pedonami. Ti pedono, ti pedono. Sento robe. Dov'è? Sento baffare. Ero il tuo spalle. Eccolo. Non ti fidare, guarda che il gestalt è un bastardo in più in più. Mi sa di uno che sa quello che fa. Ma dai. Madonna, stavo dicendo. Madonna si aspetta. E invece. Mi piacerebbe. Ha provato a farmi i perri. C'eri quasi. Scusami, non volevo prenderti a calci. E mi è andata di lusso, tra l'altro. Ma lei è scorretta, ditta. Olè. E sbabbabam. E Gigi. Manager Mondo. Come lo conosco, non ho la pietra, voglio morire. Ma aspetta, dov'è già che si prende la pietra? Ah, te la droppa uno di quei vermi, dita anulari, fuori dalla porta di Rosaria. Se lo uccidi, è un mob che non ti attacca. Una di quelle schifezze di fuori. Se lo uccidi, ti droppa la pietra. Nessuno sta mettendo il simbolo. E mi dai, perché? Buonasera signor, falla. Non vedo il suo segno, Tanked. No, Cipe, io mi stavo sistemando un attimo... Ah, ecco. Ok. C'è un altro simbolo? No, è sempre Noir. Ok. Ma sì, ma sì, ma lo affronti. Ovviamente Cipe non ha letto ciò che ho scritto. Scusami, controllo subito. Tra un'ora compro gli anni. Compro? Cipe? Compro? Compio, ho detto. Ho detto compro. Chiedo sciuma. Scusate. Davanti alla porta a sinistra. Esattamente. Invece non lo scusiamo. Alla sinistra della porta. Praticamente l'ultimo verme che ti trovi dal muro, che ti guarda, ti guarda, ti segue con lo sguardo. Su che piattaforma giochi su PS4? Su PS4. Ma come parla? Ma non avevi già chiesto? Vabbè, sarà dimenticato. Farò un'ora, so dirle, manderò su WhatsApp gli auguri. Ah, ha cambiato arma. La cambio anche io. Aspetta, 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 aspetta che cambio arma, non sono potenziati ma uso i martelli di drang. Addirittura, così di ignoranza, i martelli di drang. Sono bellissimi. Wow, 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 wow. E che? Le armate in PvP sono le spalle d'opini di Voltar, infatti non ci sto facendo. Ma vaffanculo! No, vabbè, sono tornati gli stocchi. Questi sono gli stocchi di Dark Souls 2. Porca puttana. E tu sei in guardia e ti distruggono la... No, che arma di merda. Vaffanculo, noir. Che arma di merda, che cazzo. Non me l'aspettavo una roba del genere. Cioè, e poi si lamentano della spada oscura. Ma porca puttana. Che vincere così in più... Allora, già che ci siete, prendete quell'arma, gli mettete veleno come si faceva su Dark Souls 2, gli date quattro stocchettate, tutte di fila ovviamente, e... E bon, avete vinto. Poi lo guardate morire male, perché già fanno un danno della madonna, come ho potuto constatare. Fanno veramente tanto danno, in più baffatele, bene? Dopodiché, gli lascio il veleno. Che tra l'altro, visto che qua su Dark Souls 3 non è che ci fa tantissimo. L'intossicazione ti ammazza, come Dark Souls 1. Il veleno, invece, è trascurabile. Comunque, vaffa culo, signor Noir, perché mi hai fatto malissimo. Bastardo, mai più metterò i martelli di Drang. Tra l'altro, ottimi ragazzi, io ve li consiglio i martelli di Drang, se li avete potenziati, ve li consiglio, perché stannano da far schifo. Stannano veramente tanto. Sì, anche le spalle doppie di Gotthard. Quelle sono illegali, mi hanno detto. Motivo in più per farmi una build su quelle spalle acipe, poi io che adoro il Dual. Ah. Mi hanno detto che praticamente sono parecchio insultabili le persone che si buttano quella roba lì. No, veleno, sanguinamento è meglio. Sì, in effetti, il sanguinamento, visto che è molto, molto, molto buono su Dark Souls 3. Dunque, ragazzi, fra un po' si chiude. Quindi, se volete venire a fare più UP, basta che portate qua le vostre chiappette al primo falò di Lotri, Glemura, e mettete giù il simbolo con la password CIP. Tutto minuscolo. Eh, Nico, come faccio a chiegartelo? Spade di... Spade di Gotthard. Humblee. E di una persona sola. C'hai di nuovo quell'arma di merda? Ok. Cosa fanno? Io non conosco le armi, tu mi fai gli attacchi quelli strani. Aha, questo... Oh, ma che cazzo è? Mamma mia, ma che cazzo di spada è quella? No, Nico, è un... Ma ho rullato, non dire, ho rullato. Come hai bisogno di Dark Souls 3? Conosci i Gotthard? Ma Humblee... Saranno un gruppo... Ma i Gotthard saranno... Che cazzo ne so, saranno un gruppo metal poco conosciuto. Spadone dei Principi Gemelli? Non lo conosco. Ci... Le lascio il mio segno. Me lo lasci, me lo lasci. Porca puttana. Non mi aspettavo una roba... Eh, ho capito, ma io ste armi non le conosco. Mi fanno gli attacchi che non so. Mi fanno paura. Spadone dei Principi Gemelli, comunque dicono. Sì. Le spade dei Gemelli unite. Come unite? Sì, praticamente, tanto ormai è fuori dalla Blindra, quindi lo posso dire, dall'anima dei due Principi fai due armi differenti, che sono una spada e uno spadone. Però praticamente se tu vai da Ludlet con tutto due le spade, ti dice unifica le spade dei Gemelli, quindi te ne fa una unica. Però il problema è che ti si speccano gli altri due, quindi non ce li hai più. Ah, vabbè. Per avere tutte le armi... Ma porca, perché mi dici se sei fallita? Oh no. Ma do quanto mi ha preso a calcio in culo? Io uso il martello di Smoke. Eh, ma non li ho potenziati, ragazzi. Io non ho potenziato praticamente nulla. Devi fare due armi... Sì, te l'ho rimessa. E comprare con le anime dei Principi. Ok. Io uso spade normali. Questi usano tutti spade di boss. Ma tra l'altro, già è stato... Infatti, invadimi una volta, così mi dai un paio di armi. Aspetta, eh, Muar, voglio evocare una volta tank ed almeno vinco. Sto scherzando, tank ed almeno non te la prendo. No, vabbè, hai perfettamente ragione, io non ci sono buono in PvP. Devo imparare bene come cacchio si usano le A. Perché avendo questi attacchi che sfruttano il mana nuovi, gli attacchi in posa, si possono fare delle combo veramente carine. Il problema è che non ho fatto pratica. Mai. Ma proprio mai, mai. Mai. Vabbè, ti incurio l'ora prossima volta. Ma ho capito dov'è, ma non riesco in tempo. Ah. Attenzione, new follow. Vada, cippe, vada. Per il potere di cresco. Grazie mille, signor Asvirgo97. Benvenuto tantissimo. Sappia che io devo fare la strada inversa per venire da lei. Pocchia, trotta, ma non mi potevano mettere in un altro punto. No, dall'altra parte del mondo, in volta. Sì, sono qua. Ah, salvo. Ah, ecco tu, ecco tu. Eh, mi spiace, stavo uccidendo un mob. Ma basta baffarsi. Ma baffanculo. Mi spiace. Vai, c'è. Vabbè. Cosa fa? Sprecca stamina? Sì. Ma porca. Asgadabomb. Ma dai. Eh sì. Con quali distanze lei si chiederà con la distanza giusta. Ui. Ui. No, cazzo, c'era un fallo dietro che mi... Mi ostruiva il passaggio, ma dai. Ah ah. Lei è uno di quelli che si cura forte, eh. Lula. Usva. Io. Eh, tanti saluti. Ma fa fanculo. Eh 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 eh. Io non ho bisogno di girarmi, cip. Io sono onesto. Cip, ma la Claymore su DS3 non la usi? Non l'ho potenziata. Tra l'alcol. Interessi YouTube di questa serie? Sì, potrei anche. Fate PvP. Stiamo facendo PvP. Noir. Eh vabbè, facciamoci uccidere una volta ancora da... Me. Bannatemi Sodier, subito. Meglio la C4, fidati. Sai no, la Claymore, il C4. Sì, ma... Ci sono rimasto male per ciò che hai detto. Adesso arriva il signor Noir. Hasgadabaumbed. Devo fare occhio perché lui arriva con tutte le armi che non conosco. Vengo anche io. Abbiamo tempo... Allora, la password è Cipe, scritto tutto minuscolo. Eh... Siamo al primo falò di Lotric. Le mura. Siamo sulle mura. E posso evocare uno per volta, a quanto pare. Tra l'altro, per i nuovi, sto lasciando il link del canale YouTube di Cipe Divinity che ormai non fa più queste live e della loro pagina Facebook. Beh, ormai non fa più queste live. Almeno finché... Uh! E questa spada cos'è? Una Murakumo? Eh... Finito di S3? Live di Rocket? No live... Eh... Io stavolta l'ho massacrato. Mi dispiace. Un brindisi. Ma è... È vestito di stracci, Cipe. Sì. La fai... Lo fa proprio il paragone. Ho capito. Ma che armi è? Dita vizzite. Eh, non ne ho, non ne ho. Ma è strano che non ne ho, perché io ne avevo qualcuna. Probabilmente me le ha... Ma che è una meta che stavo utilizzando? E sembrava una Murakumo fusa. Ah, forse so quale... Però no, non è vero, non lo so mai. Non è... Di sicuro non è la... Non mi viene il nome. Non è la... La spada dei signori. Non ne ho più pari d'idea. In futuro sì. Farò... Farò live anche un po' di rock e tag. Non è la spada delle... Ma sì, ma sì, tanto... Cipe... Dalla prossima settimana anche io rincomincio a fare live, quindi... Yeah! Ma porco... Ma perché mi fa sempre spawnare... Le AI sono illimitate? Ma come? Ma dove? Dove sono? Ma cosa? Le dita vizzite. Sono illimitate? Ah, sì, sì. Ma dove? Non le ho nell'inventario. E non ce l'ho! Cosa fai? Ma sei scena? E cipe, cercavo di... Di metterlo dentro, ma... Ma come? Non mi puoi dire che vuole mettermelo dentro da dietro! Ma come? Si permette? Non ci cischi? E tie, e tie, e tie. Perri, no? Non ho potuto farti perri perché non avevo più la stamina. Se no era perri, comunque. Quello era perri anche. Oddio! Mori, Cipe. Quanto mi ha spammato R1? Vai dalla vecchia, no, non ci vado, prima devo rompere il culo a Tank. Ma dai, ma con qua... No, vabbè, questo PvP non è stato giusto. Non è stato giusto nei miei confronti perché ha vinto e non è giusto. Con quale spam di R1, ma non si può... Io ci... Spera, io gli ho detto che li volevo mettere dentro, gli ho messo a vincere, scusi. Allora, io, se lei va a riguardarsi la live, io gli ho fatto un R1, no, due R1, un R2 e un attacco in salto. Cioè, non può solo spammarmi in R1 perché c'ha la spada fast, capisci? Vai dalla vecchia... Ho capito falla che era, ma hai ragione, hai ragione, ce l'ho anche io, effettivamente. Quale, quale, quale? Però sono stupido e non... La spada che stavo utilizzando di Estalt prima era praticamente... Ma dove? Hai presente il buco di Farron? Sì. Ecco. No, ma come? Se tu doni 30 er... No, 10 erbe là, ma col patto là ti dà la spada. No, cazzo, non posso usare l'umanità, la braccia dopo che evoco. Ma dai, ma che gioco di merda è? Ma se per questo chi ti... Vabbè, Estalt, io voglio provare a... Eh, vabbè. Lo evoco io, Estalt. Ma... Ti foto i Cip. Ma io ho evocato un certo Castro Giovanni. Non so chi sia. Potrei... Sarà... Lo spirito oscuro Castro Giovanni è stato evocato. Ora vediamoci per... Gli fanno il sedere, Ross. Ma... Eccolo. Un pomodoro. Oh mio Dio, arriva con uno scudo che è praticamente un portone del Valentino, vicino a Torino. E mi saluta tipo dal pontile. E quando attacco questo? Hai un portone in casa mia. Sono senza braccia, signor Castro Giovanni. Salve. Ma sì, vieni, Gesta, vieni. Ok, credo di dover cambiare un attimo anello. Togliamo questo e mettiamo questo. Sono riuscito ad evocare Gestalt Cip e ora mi aprirà come non so cosa. Credo di avergli fatto un po' di male, eh. Credo, eh. Madonna, sei potente quell'arma. Ah, no. Ma... Ma... Ma signor Castro, che cazzo fa? Si cura? Ma è scemo? Ma sei cretino? Ma... Ma è uno della chart. E dai, curati di nuovo. Ho capito con quale arma. Vabbè, mi curo anch'io. Ti... Uff, fanculo! Scusi, Cip, ma... Ti serviva. Merda, mi attacca il sanguinamento. Ma è cretino. E io mi curo. Tanto si è curato anche lui. Nooo! Ma era Perry! Era Perry, non puoi dirmi così. Madonna! Cip è... Ho fatto un PvP spettacolare, avevamo... Olè! ...avevamo cinque punti di vita a testa alla fine. Ma questo qua è sicura! Ma che è sto stronzo? È uno di voi! Sicuramente, perché... Sono io, Cip. Eh, no, non sei tu, Castro Giovanni. E che ne sai? Potrebbe essere il nome di un mio personaggio. Ma che stronzo! Ma... Ma come si permette? Ma... Ma... Cip è... Stavo scherzando. Ma non lei... Io voglio capire chi era il bastardo. Non guardare me. Ok, ho capito. Era il signor Nico. C'è un signor Terrico anche, guardi. Chi è il Terrico? Io cerco ancora la pieta, dice Nico. Pensa a te sto bastardo! Oh! Io ho trovato Aaron. Io ho trovato Aaron. Stiamo evocando Juente. Itachi, buonasera Itachi! Non ero io. Ciao Dragon Mag. Drago Mag. Di c'è sorire, potrei essere io. Potrei essere io? No. Ma non ho di essere... Ma aspetta, aspetta! C'era un simbolo di evocazione prima che si chiamava Drago Mag e c'è un Drago Mag anche su... Ah, sto evocando il signor Drago Mag. È perché io vedo il nome dei PG, non quello dei giocatori. È io vedo quello dei PG. Ma chi è quel pezzo di merda che si stava curando? Il mio personaggio attuale si chiama Valentina Nappi. E questo mi arriva con uno spadone che ha dell'incredibile. Oh mio Dio. Sembra la spada dell'esule. Il mio personaggio evoca tu. Eh no. Cioè... Salve! No, c'ha la mazza grossa questo. Eh, c'è. No, si baffa. Ma baffa. Il personaggio si chiama Splofts. Con che nome so di dire? Quanto si è teletrasportato nel mio schermo. È stato incredibile vedere questa azione maledetta. Qui, qui. Cosa fa? Corri incontro. Quanto equilibrio! Cazzo! E poi mi venite a dire che non c'è l'equilibrio in Dark Souls 2. Ma siete scegli. Non c'è. Dicono che non è attivo. Oh, mi ha ucciso un secondo prima che lo colpissi io. Bravissimo, Dragoman. Non ti avevo ancora visto reagire ad uno che si cura in un anno di live. Eh, Nico. Non ti avevo ancora visto reagire ad uno che si cura in un anno di... Ma come? Ma scusa! Non si aggiornava la chat. Ah. Beh, oddio. Non mi hai mai visto contro qualcuno che si cura. Probabilmente. Bravo, bravo, Dragon. Minchias! Che male che mi hai fatto con sta spada. Devo... È bello fare PvP con voi perché imparo le spade. Imparo le spade. C'è l'equilibrio ma non è inteso come Dark Souls 2. Ma in Dark Souls 2 anche non è che fosse molto inteso. Penso che il mio si chiamerà Thomas Turbato. Ma... Dai! Questa era una chiamata di Bart a Bo. Thomas... A Bo. Thomas... C'è il signor Thomas... Thomas Turbato? Minchia, ma Dragon mi hai rovinato. Mi hai dato due botte e mi hai spaccato mezzo. Anzi, mezzo. Tre quarti perché poi con l'ultimo quarto mi hai rovinato. Ho detto ho fatto un attacco in contro... In critico tuo. Eh... Ad anni tuoi. Ti ha cavato metà vita. Ma io giocando in là sto perdendo un casino di anime. Soprattutto a 500... 5.000 a 483.000. Ma chi se ne frega. Build pesante e poise elevato. Sì, ma... Ma... Ci faceva ben poco. In Dark Souls 1 ci contava tanto l'equilibrio. In Dark Souls 1 era bello l'equilibrio. Ma a me il PvP di Dark Souls 1 non mi piaceva perché... Avevi un sacco di... Se avevi l'equilibrio ti spaccavano la faccia di botte e tu potevi continuare a colpire. Non mi piace. Se ti arriva una spadata in bocca... Tu per quanto equilibrio hai... Lo senti la spadata. Cippe, 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 c'è la... Cippe, c'è la confezione, la confezione. Ok, lo metterò io, questo è il Giovanni. Ho fatto solo per vedere come reagivi. Non scherzo, ora facciamo su serio. Uso le mie armi. Era Nico. Ma guarda sto facendo... Mi spero... Ma te sei cretino. Ah, intanto qua c'è Aaron con lo spadone di Farron. Mi piace sperimentare le grazioni del gente. Porca troia lo spadone di Farron. Tra l'altro mi hanno detto che è periabile, quindi... Incida la combo al primo attacco. Non l'ho colpito come? Scusa, fammi un disegno di come non l'ho colpito. Non l'hai colpito, Cippe. Molto semplice. Cosa che culo, Aaron, che hai avuto. Che culo che hai avuto. Treno! Ma che palle, non l'ho preso. Ho sottomaglie. Cos'è? Stanno succedendo robe che non si capisce. Ma vai un secondo a tutti. Olè! No, no, ma dai, già è stata... Ma gli è finita lai, cioè... Chi mi ha evocato nessuno, Nico? Io sto sperando di essere evocato, quindi... Aaron, sono successe robe che non ho capito. Però è andata così, mi dispiace. Techiro. Techiro Mucho? Chi cazzo è? Ma no, ma è Drago! Uh, un simbolo di evocazione? Tanked. Mo gli dobbiamo chiedere vendetta. Vendetta vera per quello che mi ha combinato prima. Sto spammone di R1. Neanche in galera. Ma dosse, guarda, ci finisco volentieri. Basta che ti trucido come una memma. Ma ma è ma... Scusa, tu vai con gli attacchi pesanti di Spadoni, io c'ho le spadine e uso gli attacchi veloci. E aspetta di vedere la mia prossima build, Chiper. Sì, ma si troppo! La prossima me la faccio con la dual. Addio! Cosa? Eh, Chiper, lo sai, io per il dual ho la passione bruciante. No, no, non volevo... Stavo per dire una cosa brutta, meglio che non... Vado in Fettron, se metto questo... Attacca, ma un gusto, ma un gusto, ma un gusto. Oh! Non so. Anzi. Fammi... Giusto per sicurezza. Così sono in Fettron? No! Tanked, vieni pure con tutte le spade che vuoi. Attaccando con quell'arma puoi schivare, ma un grosso malus nel movimento. Eh sì. Tu stai che ti si... Se ti sei messo due armi e ti... Vieni, vieni, Tanked, vieni. Non essere... Non essere paurosso. Ah, peccato. Aia, aia, aia. Ma vuoi andare di spada oscura? Vado... Uh uh... Vado... Uh uh... Hai visto il frullatore? Giuseppe, ma pasto com'è che non me ne hai dato? Perché no? Tranino ciuf ciuf! Oh cazzo! Ma da quale distanza è vero? Oh... No, vabbè, adesso dico io, ma da quale distanza è vero? Abba um, abba um! E il signor Tan che ci saluta così. Merda, che spada. Oh, quanti simboli! Terrico, l'abbiamo evocato. Baleiron, Baleiron. Chi è Baleiron? Ragazzi, ancora cinque minuti. Cinque minuti, ragazzi, e poi si chiude. Devo andare a giocare a Rocket League. Non voglio sentire caccate. C'è uno che chiama italiano puro 074. È un mio amico, è un mio amico italiano puro. Poi c'è Aren. Aren. Dragomag. Dragomag è quello che si chiama Terrico. No, no, mi ha ucciso una volta, Dio. Brando. No, Brando, io l'ho ucciso una volta. Esatto. L'ho ucciso una volta, Brando. Mi stia togliendo una vittoria. Il fantasma... Chi è Baleiron di voi? Baleiron. Nico, secondo me. Secondo Nico. Non so perché, ma secondo me è lui. Oh mio Dio, sta arrivando con un'arma che mi fa paura tanta. Tanta. Tanta luce. Ah, peccato, speravo continuare se sarebbe stato divertente. No, no. Non ha la spadone, direi. Sai che assomiglia a Yotobi? Ma sai quante volte me lo dicono? Ma dell'armatura della Mazza 3. Ho sottomaiato. Ah, peccato. Posso fare peri a quella roba lì? Oh, come non mi ha colpito. Ho smesso di evocare. Adesso vado e continuo a farmi l'altra... Oh, 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 oh. Non conosco gli attacchi speciali di quelle... Di quelle cose lì. come non mi ha colpito non si sa però muore è andata bene mi è andata bene chiedo scusa qua mi è andata molto bene qua è stato un errore una specie di bug che non mi ha mi ha permesso di schivare un attacco che non ho capito come mi evochi un'ultima volta cippe tu eri il signor terico giusto? terico scusa voglio solo vedere chi è l'altro aren ok lo chiamo terico così mi picchia mi faccio vedere come muoro e siamo giusto per finire per un ultimo pvp e poi magari domani sera faccio una una live solo esclusivamente di pvp che figo una live di pvp però devo mettermi lì e potenziare un po' di armi perché non è che posso fare pvp solo tanto con lo spadone di Astora capisci capisci il mio dilemma luna volete salutare luna? no sta ma sì ma facciva vedere vieni luna vieni qui oh si stava stava dormendo tantissimo eccola qua tutta addormentata buah cucciola 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 mmm pulita tutta pulita guarda lì buonasera buonasera signor Mattia a che ora inizia a fare live? alle 22 alle 22 inizia a fare live e in teoria si finisce alle 23 23.30 e mo lo sniff cretino l'hai svegliata eh no era già sveglia si si sniffano i gatti perché oh qua la Onikiru Ubadachi ai 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 buonasera Joey buonasera cazzo eh madonna ma quanto danno io voglio capire a che livello sei prima di tutto e poi ne riparliamo ciao Falla alla prossima cazzo Seba Seba dice Mauri venga a farti il culo ma Seba devi capire che no perfetto e ci abbandona e stavolta t'ho fregato mi dispiace bravissimo no sto scherzando non era un bug nel senso che lui ha fatto un attacco ma non è entrata la hitbox avrebbe dovuto quantomeno stunnarmi e fermarmi il mio colpo e invece no ciao Falla grazie mille per essere passato e quindi niente niente leoring cos'è leoring l'anello del leone ce l'ho l'anello del leone ce l'ho equipaggiato quello che intendi te è quello del calabrone forse Joy quello per gli attacchi critici dopo i perri è l'anello del calabrone perché l'anello ma c'è quello che dice ma la non cresce che razza è ma no è piccolina cioè lasciati il tempo di crescere da quando ce l'hai il chip eeeh la luna che luna che luna il gatto chip è ah minchia come stai e sto bene e sto bene intendevo il calabrone sarà luna calante ti prego so dire no ti prego mi dispiace mi dispiace oh oh mio dio il gatto è scorreggiato oddio cosa succede in questa stanza